L'Università di Foggia oggi elegge il nuovo rettore, una campagna elettorale, quella di questi giorni ricca di colpi di scena e di dichiarazioni al veleno, soprattutto tra i due ultimi competitor che si sfidano all'ultimo voto per guadagnare il sesto piano del Palazzo del Rettorato. Una battaglia a colpi di mela alla comunità e di sentenze lanciate, quella che oggi si conclude tra il professor Lorenzo Lomuzio e la professoressa Donatella Curtotti, i due candidati che si contendono dunque l'incarico di rettore dell'Ateneo Dauno per i prossimi sei anni. Lo ricordiamo, l'Università di Foggia è tornata alle urne in anticipo e dopo tre anni, a causa delle dimissioni del professor Pierpaolo Limone, che ha preferito dimettersi da rettore e seguire percorsi accademici diversi, nuovi e con ogni probabilità telematici. Una seconda votazione, quella che si è aperta questa mattina alle 9.30 circa e si concluderà alle 17 di questo pomeriggio, che ha visto un andamento completamente diverso da quello registrato nella prima votazione dello scorso 15 marzo, quando si registrò un boom di votanti già alle prime ore del voto. Secondo i dati relativi all'affluenza che arrivano dall'Università di Foggia, l'andamento di oggi è stato molto piatto e dopo una prima ondata quasi vivace di votanti, la situazione si è poi appiattita per riprendere nelle ore di pranzo, con ogni probabilità, momento in cui terminano le elezioni, ossia in pausa. Nella prima votazione ad aggiudicarsi maggiori voti è stata la professoressa Donatella Curtotti, preside della facoltà di giurisprudenza, invece il professor Lorenzo Lomuzio, docente di malattie odontostomatologiche, era al terzo posto del podio. Da quel momento in poi si sono susseguiti ritiri e accordi tra ex candidati e proprio queste intese hanno fatto registrare le dichiarazioni al vetriolo della professoressa Curtotti. Nei corridoi intanto questa mattina si respirava un clima molto teso e la comunità accademica, dopo gli ultimi giorni di fermento, aspetta di conoscere il nome del nuovo rettore dell'Università di Capitanata, che si saprà solo nel tardo pomeriggio.